Pronto alla scalata del Parlamento. Dopo due mandati da primo cittadino, la caduta del governo Prodi offre a Piero Celani l'occasione di confrontarsi con un elettorato di più ampio respiro e di sedere su uno scranno a carattere nazionale, uscendo dagli ormai stretti e preclusi confini cittadini. L'ipotesi di lasciare Ascoli per la capitale sembra piacere a Celani. I prossimi anni sono anni abbastanza difficili per la divisione del territorio e quindi ognuno dovrà fare la propria parte. Io potrò farla magari in un altro ruolo il prossimo anno, indipendentemente dalla mia decisione di quest'anno, di questa sede, della prossima settimana. L'importante è fare rete. L'importante è che ci sia continuità nell'amministrazione per quanto riguarda i progetti. Ma è partito anche il toto successore. Chi siederà sulla poltrona di sindaco di Ascoli qualora Celani migrasse verso Roma? Il nome più accreditato sembra essere quello del consigliere regionale Guido Castelli, uscito da un summit del fattore C, cioè da una conviviale fra gli stessi Castelli e Celani, affiancati dall'onorevole Ciccanti. Castelli è una persona capacissima che ha ricoperto fino adesso un ruolo politico molto importante all'interno della CDL e quindi potrebbe essere anche Guido Castelli. Io sono uno di quelli che appena piace lavorare per il territorio quindi indifferentemente piacerebbe rimanere qui per chiudere tutta una serie di progetti che ho avviato e che quest'anno andavano a maturazione. Ma qualora dovessi essere chiamato insomma in qualche modo a ricoprire altri ruoli credo di farlo volentieri e sempre nell'interesse naturalmente della mia città e dell'interesse del territorio. L'alleanzino insomma piace anche a Celani, segno che almeno in terra scolana la casa delle libertà resta compatta.